Sequestrate 64.000 mascherine FFP2 equivalenti ma non conformi, vendute a privati e denti pubblici, i dispositivi erano destinati anche all'ospedale San Donato di Arezzo. Questo l'esito di un'indagine della Procura di Livorno sul rispetto della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale portata avanti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria libornese. Il blitz delle fiamme gialle è scattato nel porto di Livorno. Le mascherine di tipo K95 equivalenti alle FFP2 non conformi, importate da un'azienda lucchese, erano destinati a privati e denti tra cui anche la regione toscana. Le indagini hanno messo alla luce l'esistenza di certificati per i dispositivi emessi da un ente polacco su richiesta dell'importatore non equivalenti a quelli previsti. In sostanza la società polacca era un organismo europeo notificato ma non per la certificazione dei dispositivi di protezione individuale. Le fiamme gialle hanno poi ricostruito le fasi di importazione, cessione e distribuzione dei dispositivi venduti dalla società Adestar, ente della regione toscana, individuando i presidi ospedalieri presso i quali erano stati mandati i dispositivi risultati non conformi. Le operazioni di perquisizione hanno permesso complessivamente di sequestrare 64.000 mascherine dal valore di oltre 265.000 euro, stimando inoltre dall'esame delle fatture spiega la finanza l'avvenuto commercio in frode di 293.000 dispositivi irregolari in ambito nazionale, concessioni oltre che in Toscana, anche in Trentino Alto Adice, Rombardia, Lazio e Campania. Il responsabile è stato così denunciato all'autorità giudiziaria per frode nelle forniture pubbliche e frode in commercio.